Bene, andiamo avanti. Appalti truccati, tutti rimessi in libertà per assenza di motivazioni. Colpo di scena del Tribunale del Riesame che ieri pomeriggio ha disposto la scarcerazione di 4 dei 12 arrestati nell'ambito dell'operazione Genio e Sregolatezza della forestale di Viterbo. Dopo solo poche ore dall'udienza di ieri mattina, fissata per discutere i ricorsi degli imprenditori Luca Amedeo Girotti di Tarquigna, Marcello Rossi di Vetralla, che era i domiciliari, Stefano Nicolae, domiciliari e della funzionaria del Genio Civile di Viterbo Gabriella Annesi, ritenuta dai magistrati viterbesi la figura chiave nel sistema di spartizione degli affatti, insieme al collega Roberto Lanzi, è stata infatti annullata l'ordinanza del GIP della Procura di Viterbo. Le difese, gli avvocati Paola Girotti, Antonio Maria Carlevaro per Amedeo Girotti, Marco Russo per Rossi, Samuele De Santis per l'Annesi e Monaco per Nicolai, hanno rilevato che l'ordinanza del GIP sarebbe l'esatta proposizione delle richieste dei PM d'arma e tucci, una sorta di copia e incolla sprovvisto di valide motivazioni. Tale circostanza, hanno sottolineato i legali difensori degli arrestati, compromette la legittimità delle misure cautelari. Infatti, ieri pomeriggio l'esame ha annullato il provvedimento, creando una sentenza pilota che apre il varco alla scarcerazione anche degli altri otto arrestati. Le copiose piogge che si sono abbattute negli ultimi giorni in città hanno messo a serio rischio e sondazione i fossi presenti a Santa Marinella. Questi eventi atmosferici sono la dimostrazione che il clima è in continuo mutamento e che le cosiddette stagioni di una volta sono solo un debole ricordo dei tempi passati. Su questa tematica intervengono i consiglieri comunali d'opposizione Benci e Mucciola, che chiedono al sindaco di intervenire facendo fare la pulizia dei corsi d'acqua e al responsabile della protezione civile di mandare avanti il piano di soccorso cittadino. Santa Marinella, dicono i due esponenti politici, per la sua caratteristica logistica è una città a rischio inondazione. La città è attraversata da corsi d'acqua che hanno la naturale funzione di convogliare le precipitazioni verso il mare, poiché la distanza che intercorre tra le colline e il mare è ridottissima. Il rischio di sondazione è quindi notevole. Forte di queste elementari considerazioni, un'amministrazione oculata e responsabile avrebbe dovuto porre al primo posto del proprio gire la messa in sicurezza di questi corsi d'acqua, attraverso una manutenzione più che efficiente. E passiamo a Tolfa, è assurdo che un cittadino debba arrivare allo stremo delle forze per avere quello che lecitamente gli spetta di diritto. Ad esprimersi così un cittadino di Tolfa, Davide Vannicola, che accusa il comune di allungare all'inverosimile i tempi burocratici per realizzare il suo progetto di fattoria didattica agri-ristoro, da realizzarsi in zona La Strega Comunali Macchiosi. La mia via Crucis dura da un anno e mezzo, ha spiegato, e ora la situazione è divenuta insostenibile sia a livello economico che psicologico. Vannicola si rivolge al sindaco con una lettera per chiedere a lui intercessione per realizzare il suo progetto. Nel suo programma, ha spiegato, prometteva di preoccuparsi di noi artigiani, quindi mi auguro che accolga la mia istanza. Vannicola è in questa sua battaglia appoggiato dall'avvocato Emanuela Di Paolo, che conferma che il progetto di Vannicola ha ricevuto in questo anno e mezzo tutti i permessi possibili, tra cui il vincolo ZPS e il vincolo idrogeologico, la valutazione di incidenza, il POA approvato in maggioranza piena, tre permessi della soprintendenza archeologica, ma ancora è tutto fermo. Ennesimo furto di rame ai danni dell'illuminazione pubblica nel territorio di Fiumicino, dopo quello avvenuto circa un mese fa alle Vignole. Ad essere danneggiato questa volta è stato l'impianto di illuminazione pubblica comunale di via Castegnavizza, dove sono stati furtivamente sottratti 450 metri di cave di rame dai pozzetti di alimentazione principale dei lampioni. I cavi di alimentazione risultano infatti troncanti e mancanti di interi tratti. Il sindaco Canapini torna a condannare duramente i responsabili di questo ennesimo grave furto. È positivo il commento di Alessandro Battilocchio in relazione a questa fase post-elettorale in un paese che ben conosce, la Georgia. La piccola repubblica del Caucaso in ottobre è andata alle elezioni ed ha visto l'affermazione di Bizina Evaniscivi. Battilocchio, che nel corso del suo mandato a Bruxelles, seguito per il Parlamento europeo questa area, ha parlato con diversi esponenti politici locali, riscontrando una soddisfazione generale per l'andamento del processo democratico elettorale. Bene, adesso lasciamo nuovamente spazio alla pubblicità e ci vediamo subito dopo con lo sport.